A Sassari la stagione lirica non si ferma. Gli spettacoli andranno regolarmente in scena in diretta streaming gratuita a partire dalla prossima produzione su Orangelica di Puccini, prevista per il 6, il 7 e l'8 novembre. Una scelta che prova a rimediare le chiusure al pubblico delle sale teatrali, decise dall'ultimo DPCM. Fermarsi sarebbe stata la scelta più facile. Noi abbiamo scelto la via più scomoda, cioè quella di continuare, per onorare i contratti rispettando così i diritti dei lavoratori dello spettacolo. La decisione del Consiglio d'amministrazione dell'ente Maria Elisa De Carolis salvaguardia i contratti già firmati dal personale tecnico e artistico, ridando così dignità a una categoria spesso considerata superflua. Certo, i lavoratori dello spettacolo hanno famiglia, mangiano come tutti gli altri. In più c'è anche l'aggravante del fatto che i lavoratori dello spettacolo sostengono la cultura che in questo momento viene messa negli ultimi posti dei valori. Il Covid incide pesantemente anche sull'atmosfera di chi lavora in teatro. C'è paura per il Covid o no? Sì, beh c'è paura, tristezza, desolazione perché comunque anche esprimersi davanti a una platea vuota è veramente complicato. Sassari lascia aperto ma l'ente lirico di Cagliari invece chiude. Avremmo preferito avere magari la stessa linea perché comunque l'unione fa la forza, purtroppo non è stato così. Le criticità dei lavoratori dello spettacolo rimangono però tutte sul campo. Una prima protesta pubblica contro le misure restrittive dell'ultimo decreto Conte si terrà domani a Cagliari alle 9.30 in Piazza Palazzo.